Ciao a tutti, benvenuti e bentornati qui sul nostro canale. Continua la saga dei video dedicati al countdown natalizio e questo è proprio in tema di Natale. Questo pacco qui che leggete SDA Express, io so cos'è, o meglio, so chi è che me lo manda, ovvero naturalmente bella la bioprofumeria fisica e online di Morbegno, con cui ho iniziato a collaborare all'inizio dell'estate. Da Francesca io ho fatto un piccolo ordine perché mi sono follemente innamorata del burro e la lavanda. Per l'occasione lei mi ha mandato una cosuccia che è relativa proprio al Natale, ovvero le box natalizie, in modo da continuare la recensione e parlarvi di questo servizio. Io ve le lascerò giù nell'info box il link alla sua pagina di Facebook e al suo sito perché ha tantissimi prodotti e tantissime idee, soprattutto sulla sua pagina di Facebook troverete davvero le foto dei suoi pacchettini natalizi. Ho anche fatto un piccolo pensiero di Natale che è giunto a destinazione e veramente ne vale la pena perché la persona che l'ha ricevuto ha detto che è impacchettato in maniera magnifica. Allora, non perdiamoci in carta e apriamo. Il mio Antonio doveva essere impacchettato con la carta di Natale, mi diceva Francesca, però non ho fatto in tempo perché il corriere zelante è arrivato subito. Allora, è un bel paccozzo, molto molto grande. Non mi aspettavo una cosa così grande, con un bel reciclo di scatola, giustamente. Mi sono munita di forbici, in questo periodo mi accompagnano. Allora, e apriamo un po' assieme la box. Io già vedo qualcosa di magnifico perché è un vero e proprio cestino natalizio. Cioè, guardate che bellezza. Guardate un po' che meraviglia, cioè veramente che meraviglia. Guardate che spettacolo questo cestino natalizio. Cioè, voi pensate a fare un regalino, un pensiero, se siete di Morbagno, se lo volete spedire, a una vostra amica, a vostra mamma, alla vostra sorella, o a vostra moglie, se siete maschietti, alla vostra fidanzata. Secondo me è bellissimo perché è curato in ogni dettaglio. Adesso provo ad aprirlo di lato e vediamo assieme i prodotti che sono contenuti all'interno. Allora, l'ho spacchettato. Questo è il contenuto della box natalizia. Le box natalizia, mi sono scordata di dirlo, le crea in base a un questionario o in base anche alle vostre esigenze, alle vostre indicazioni. Per esempio, per me mi conosce bene ormai, mi aveva solamente chiesto i miei colori preferiti e infatti questo è il risultato perché c'è il lilla, il bianco e il rosa che per me sono deliziosi. Allora, cosa troviamo all'interno di questa box natalizia? Una crema mani, mani e unghie antimacchia vegan di Green Energy Organics di cui avevo provato dei campioncini per delle creme corpo. Questo è l'inci e queste le sue certificazioni. Sempre di Green Energy Organics vedo questo gel struccante alla rosa che calma e l'inisce. questo è il suo inci con le sue certificazioni. Questa invece è violetta che sbircia. Poi vedo uno smaltino di Zoya, il mio primo smalto Zoya, un nude. Mi piace molto, molto bello, raffinato. Poi vedo un cupcake bellissimo, guardate che meraviglia. Questo è un lavoretto fatto a mano da una ragazza che gli ha fatto delle cosine per Natale. Molto bello, sembra quasi vero, quasi da mangiare. Poi qua c'è il body butter alla lavanda, quello che ho ordinato io, che lei l'ha messo dentro la confezione perché me l'abbia chiesto se poteva. Poi troviamo questo qui, ha un bagno doccia, un shower gel sempre di Green Energy Organics alla vaniglia, che io adoro la vaniglia. E poi abbiamo la crema corpo, sempre alla vaniglia, wow! Mi piace un sacco questa box natalizia. E questi sono i suoi riferimenti se siete interessate. Come vedete c'è grande cura nel dettaglio per queste box. E secondo me è una box del genere carinissima, ripeto, come del regalo. Io impazzirei a riceverla. E infatti l'ho ricevuta e sto impazzendo dalla gente perché è stupendissima. Vi ripeto, vi lascio giù nell'info box tutti i riferimenti per contattare Francesca e per vedere altre foto di altre box che ha fatto. Io vi ringrazio per aver visto questo video, per continuare a vedere i video per il candavo natalizio. Vi invito a mettere un pollice in su e lasciare un commento ai miei video per far crescere il mio canale. Vi mando un grossissimo bacio, ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao!